Ai circoli del PD di Monzambano, Ponti sul Mincio e Volta Mantovana, ma anche a SEL, non piace la scelta di Pellizzera al guida del Parco del Mincio, condivisa invece dalla provincia. Pastacci si è presentato in assemblea senza un accordo con le forze di maggioranza, dice Morselli. Vediamo. Il circolo PD di Monzambano, Ponti sul Mincio e Volta Mantovana alza la voce, anche se a giochi fatti, contro l'elezione di Maurizio Pellizzera, presidente del Parco del Mincio. Su Biamo spiegano in una nota questa scelta derivante da accordi consociativi. Molti motivi di dissenso a partire dalla sua nomina da parte del Pirellone. Primo caso nella regione Lombardia, un Parco nomina la persona nominata dalla regione all'interno del CDA. Quindi vuol dire che i territori hanno delegato alla regione di fatto la nomina del loro presidente. In secondo luogo il curriculum di Pellizzera non deporrebbe a suo favore. Ricordiamo che lui in passato voleva inizialmente dividere il Parco in Parco del Nord e in Parco del Sud, poi voleva togliere la gestione della riserva di Castellaro dalla gestione del Parco e infine voleva far uscire il Comune di Monzambano dal Parco del Mincio. A infastidire il PD è inoltre l'accumulo di incarichi pubblici e privati che potrebbero portarlo potenzialmente a situazioni di conflitto di interesse. Oltre a ciò siede in consiglio provinciale in un gruppo alternativo all'attuale maggioranza e cui il presidente ha contribuito in modo quantomeno contraddittorio ma determinante alla sua elezione. La scelta di Pellizzera è stata bocciata anche da SEL. È stata scritta una delle pagine peggiori della politica mantovana, ha dichiarato il coordinatore provinciale Claudio Morselli. Avevamo chiesto di opporre un secco no al consumo di territorio alla tangenziale ovest di Mantove e all'autostrada Mantova-Cremona e oggi ci troviamo presidente del Parco, prosegue Morselli, il candidato del centrodestra e di Formigoni, il sindaco delle varianti urbanistiche del campo da golf nel Parco del Mincio. E tutto ciò con l'avallo del PD e della provincia che si è presentata all'Assemblea senza una linea concordata tra le forze politiche e i gruppi consigliari di maggioranza.